Michele, allora mi raccomando, non mi fare fare brutti figure, io te lo dico adesso quando entriamo dentro, non prendere questo, non prendere quello Mamma, ma quando mai io ti faccio spendere il sole? Come? Eh, però io te l'ho detto adesso, poi Sì, mamma, tranquilla Ma, guarda Dolcetti al coppio, amici, li prendiamo No? No, che buone queste, mammi, posso prendere queste qua? No, dai mammi, ma parca, ma neanche ora questo mi peperi No, no Vabbè, ok, mettiamole qua Scusami, come dire, io? Vediamo Wow Eh, ma qui ci sono anche questi Un cake Guarda Guarda No, non puoi Ma manco una cosa mi hai fatto prendere Ma non puoi prendere niente Ti prendo male Guarda quelle cose Quale? Quale, va bene, andiamole Mamma mia, chissà che buone queste pizze Allora, quale mi mangio per prima Vediamo un po' Mi mangio questa qua con la mostella Michele! Aperto i sacchetti Aperto i sacchetti Aperto i sacchetti